Il 31 ottobre generalmente negli ultimi anni sembra quasi che sia necessario coinvolgersi con questa festa di Halloween o Halloween come dice De Luca. La Chiesa risponde con una bella iniziativa che è stata organizzata dalla parrocchia San Nicola di Perito, dal parroco Don Marco Torraca, che è creare un momento di preghiera attorno ad una delle figure che sta emergendo nella Chiesa di oggi, che è quella del beato Carlo Acutis. Quindi nella Chiesa di San Nicola di Bari, a Perito, il 31 ci sarà questa veglia, questo momento di adorazione eucaristica e poi l'occasione di parlare di Carlo Acutis, del beato Carlo Acutis, un testimonial per i giovani, un influencer di Dio. E lo faremo anche parlando del libro Carlo Acutis, l'apostolo dei Millennians, che è un libro pubblicato da Punto Famiglia, che è distribuito in tutta Italia ed è diventata l'occasione per conoscere molto più da vicino la figura nell'intimità del suo rapporto con Dio, perché è una biografia spirituale che può accompagnare i ragazzi a vivere l'esperienza di Gesù nella loro vita. L'evento avrà inizio alle 17.30, ci sarà appunto il momento di adorazione eucaristica, ci sarà un confronto sul testo Carlo Acutis, l'apostolo dei Millennians, una catechesi attorno alla figura del beato Carlo Acutis, anche con la partecipazione di Don Orlando Vigianello, un giovane sacerdote della nostra diocesi, che si occupa proprio di pastorale. Quindi un bel momento per invertire un po' la rotta. Non Halloween, a noi piacciono i santi.